Un caro saluto a tutti gli amici di Autonomia Dinamica. Oggi parliamo di riforma del secondo statuto, innanzitutto anche perché i trentini devono notare sì alla riforma della Costituzione. Nel senso che va detto che il momento politico è a noi favorevole perché c'è una maggioranza risicata in Senato e difficilmente con le prossime elezioni si ripeterà questo momento dove i nostri senatori regionali hanno un forte peso e per questa ragione la revisione del secondo statuto va fatta molto velocemente e secondo me siamo in forte ritardo. La riforma va fatta, a mio modo di vedere, in due fasi. La prima più urgente riguarda sostanzialmente anche l'articolo 39 della nuova riforma della Costituzione che regola i rapporti tra la provincia autonoma di Trento e Roma e poi una seconda fase meno urgente riguarda i rapporti interni e cioè che la provincia vuole fare con i poteri che ci vengono dati da Roma. Occorre pertanto chiarire i nostri rapporti con il governo, in primo luogo la difesa delle nostre competenze che dovranno essere riscritte all'interno dello statuto che nel corso degli anni sono state rafforzate attraverso le nuove attuazioni. Per fare un esempio, quando abbiamo ottenuto la gestione delle strade, abbiamo ottenuto attraverso le suddette norme di situazione, norme che vanno riscritte e che diventeranno competenze all'interno del nuovo statuto. Prima inoltre c'erano anche le competenze concorrenti che si creavano anche in una certa confusione e che vengono finalmente chiarite proprio grazie alla riforma dove ci saranno solo le competenze dello Stato e delle regioni. Secondo punto urgente è anche quello di disciplinare la cosiddetta competenza trasversale, quelli che non si riferiscono a un settore come la scuola, ma altri ambiti come ad esempio la concorrenza. In questa fase bisogna stabilire quali competenze trasversali non possono rimanere in capo allo Stato e quali alla provincia di Trento, con procedura negoziale, il che permetterebbe di adeguare il nostro territorio. L'ultimo punto che riguarda sempre i rapporti tra la provincia di Trento e Roma è quello che riguarda il principio di intesa. Una delle ipotesi che sta avanzando è che i due terzi del Parlamento se sono contrari alla proposta di modifico dello statuto di Trento e Bozzano possono approvarlo ugualmente. Noi dobbiamo definire tutto entro questa legislatura, almeno in prima lettura, perché disponiamo di una delegazione parlamentare di un certo peso, almeno in Senato dove i numeri sono più risiccati. Siamo, e questa è la mia maggior preoccupazione, in notevole ritardo. La provincia avrebbe già dovuto elaborare questo primo pacchetto di misure condivise, non richiedendo un confronto sociale e comunitario. Per quanto concerne la seconda fase, che accennavo prima, anche qui siamo in grave ritardo perché ci sarebbe dovuto iniziare discussioni con il coinvolgimento delle forze politiche, sociali e culturali e l'apertura di una grande istituzione pubblica e di confronto. Questa seconda fase in particolare non riguarda infatti i rapporti tra Trento e Roma, ma ciò che la provincia vuole fare con i poteri che vengono da Roma. Ad esempio la regione. Come intendiamo portare avanti i rapporti con Bozzano e con Innsbruck? In che modo vogliamo mettere nello statuto il tema della cooperazione? Questo è un punto innovativo e che va evidentemente elaborato. Vanno trovate forme nuove anche nei nomi, visto che le province saranno abrogate, potremo iniziare a chiamarci comunità autonoma, rimarcando la nostra diversità e specialità rispetto alle altre regioni.